C'era chi aveva dichiarato di lavarsi con l'acqua piovana o scaldarsi con la stufa a legna per giustificare i mancati consumi delle utenze. Chi invece aveva indicato la propria abitazione alla data del sisma in quella che poi si è rivelato una stalla oppure chi detenuto soggiornava fittiziamente in albergo. 81 i finti terremotati scoperti dalla Guardia di Finanza di Teramo che hanno percepito complessivamente 1,5 milioni di contributi di autonoma sistemazione. Nel giro delle false attestazioni ci sono anche due amministratori locali che sono stati denunciati per abuso d'ufficio. Del milione e mezzo di fondi percepiti indebitamente 884 mila euro sono stati oggetto di sequestro preventivo da parte dei finanzieri mentre solo in quattro hanno deciso di restituire quanto illecitamente percepito circa 54 mila euro. I fondi pubblici sono destinate ad aiutare le persone colpite in questo caso dal sisma del centro Italia del 2016 che ha ferito in modo profondo anche il terramano. Le persone denunciate dunque hanno sottoscritto false dichiarazioni di residenza in paesi del cratere sismico per accedere al contributo mensile riservato a coloro che una volta dichiarata l'inagibilità della propria abitazione abbiano provveduto a trovare un alloggio alternativo in maniera autonoma.